Sto appartito il tuo canto, nomi o studiatori, oggetto il mondo è Marco Luccia. Sto appartito il tuo canto, nomi o studiatori, oggetto il tuo canto, nomi o studiatori, oggetto i mondi e consigliatori. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, sono quattro e la trovano? Uno, due, tre, quattro, cinque. Quattro sono? Tenici. Allora, sono quattro, cinque. Viene distinto con 11 voti favorevoli e 4 voti per l'uca. Si basta al terzo capo. Donate la roba a tutti i suoi. Allora, sono quattro, cinque. Allora, sono quattro. Allora, sono quattro, cinque. Allora, sono quattro, cinque. Allora, sono quattro. Allora, sono quattro, cinque. Allora, sono quattro, cinque. Allora, sono quattro. Grazie.